Prima era bello quando c'erano gli orti e così era bello e sulla macchina di sé perché la grande Berlusca ha detto che c'era il supermercato o no. Il riscosso è stato che loro dall'oggi al domani l'hanno sapute, non è che sono stati allugati, sono arrivati qua con le ruspe e hanno detto basta, hanno chiuso lì. Gli vicini di casa erano soci in tre, poi sai ci si aiutavano fra di loro che andava via perché aveva i famigli al meridione e allora tornavano, dai vicini si aiutavano nel bagnare, nel tenere il pulito. Nel corso pescavano l'acqua a 5-6 metri, almeno tornavano pulito, è una giungla perché vengono le bici in casa. Avevano detto che dovevano fare un Nutelli, uno con un Nutelli. Un campo da calcio, ho fatto bene, varie repzioni, negozi, c'è qua, c'è una sola idea. Tu c'hai fissa per i negozi, devi comprare. Abito vicino, faccio due passi, uno cuore. Prima quando c'erano gli orti sempre c'erano. E' bello. Quando li trovavi c'erano. Anche io andavo. Perché c'erano quelli lì che raccoglievano la verdura così e noi gli trovavamo. C'era la siciliana che era... Si è. C'erano tutto. C'era Pasquina che... Si si tutto. Lanciavano i petardi. Si è vero. Adesso mi sono ricordi. Andavamo a manciare i petardi. Adesso mi ricordo. Eh, andavamo a manciare i petardi ragazzi. Ecco. E lanciavate anche il polletto i petardi. C'erano i petardi. Patate. Le banane. Le cimolle. Le banane. La lili. Oh, anche gli alberi da frutto sarebbero belli. Eh. Alberi da frutto. Limoni. Bicocche. Bello l'ortizio. Ci stiamo qui. Ancora, rifatto. In realtà con il baglio lì l'abbiamo fatto per... Per fangare l'humus. Da unici. Amaglie. Portate lì. Anche più che altro per mischiare. E aggiungiamo un po' di humus e un po' di letale. C'è una bella terra. C'è una bella terra. Grazie. Per seminare. E poi prendi un po' di... Facciamo bene. Così... Lasciarla scoperta. Cioè se ne sono disseminate niente. Poi dopo ti buttate le banane. E' bella tagliata. E' bella. 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 Da. E' bella. E' bella. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti